Qual è la cosa più bella del baseball? E' essere liberi, è uno sport che comunque ha dei limiti, però non ci sono i limiti, anche solo il fatto di correre liberamente senza nessuno a fianco o con degli ostacoli è tanto per noi non vedenti, povedenti. Il piccolo Diego ha la fortuna di avere un supereroe in casa perché a Danny il suo papà basta indossare la tuta da baseball per ottenere i superpoteri, vado a vedere il mio papà che corre velocissimo. Cosa ti dice tuo figlio quando ti vede giocare a baseball? E' molto contento, sabato c'era e con il fatto che abbiamo vinto era molto molto contento, tanto. Già i Redskins, la squadra di baseball di Perugia è nata quasi per gioco nel 2017, lo sport di chi sa guardare oltre, basta una pallina con i suonagli e tanta voglia di divertirsi insieme. Con tanti sacrifici, chilometri per allenarsi durante la settimana e trasferte in giro per l'Italia nel weekend, sacrifici ripagati però dalle vittorie dentro e soprattutto fuori dal campo. Facciamo finta che le telecamere non ci siano, ma le decisioni chi le prende, Marta o Massimo? Le prendiamo tutte e due insieme, perché sono condivise sia con me che con Massimo, ma anche con gli altri assistenti. E' un impegno importante questo, sia per voi che per i ragazzi, anche sul piano proprio logistico organizzativo? Sì, assolutamente, perché veniamo un pochino tutti da posti diversi. Di Perugia sono pochi. Io personalmente vengo da Roma, quest'anno abbiamo tra l'altro altre due persone che vengono da Roma, che sono in prestito da una squadra romana che non partecipa al campionato, ma che io conosco bene perché io sono cresciuta a Roma come allenatore. Quindi da Roma, da Terni, da Narni, da Castiglione in Teverina, da Perugia. Che cosa dà il baseball a questi ragazzi? Non dà solo sport, dà socializzazione, dà un obiettivo che è anche un obiettivo di vita, perché per poter riuscire a giocare una partita, ma anche semplicemente un allenamento, bisogna star bene psicologicamente e fisicamente e quindi darsi anche dei traguardi, che sono anche dei traguardi di autonomia. Questo è uno degli sport dove potete vedere che le persone si muovono liberamente nel campo, col suono, col suono della voce. Nessuno prende sotto braccio, se non magari se si tratta proprio all'inizio, un bambino viene guidato. E quindi il fatto stesso di dover arrivare al campo, spesso con i mezzi pubblici, quasi sempre, anzi in questo caso tantissimo, anche col treno, è già un'autonomia. Per noi vedenti la particolarità più bella è riuscire a portare i ragazzi all'indipendenza da tutto, insomma, perché loro sono già bravi di loro, però questo sport li porta a un'indipendenza sia caratteriale che fisica, proprio motoria, perché io ho visto proprio ragazzi che arrivavano al campo, accompagnati dai genitori, tutti timorosi, correvano tra le basi con paura, logicamente. Invece dopo 6-7 mesi, via, andavano, correvano tranquillamente, perché sanno che è uno sport sicuro, privo di ostacoli, praticamente loro sanno di correre al sicuro. Senti, una stagione che è iniziata subito col piede, è giusto, no? Sembrerebbe di sì, abbiamo vinto la prima, è stata una partita lunga, difficile, con una bella formazione di Sesto Fiorentino, che sono tutti giocatori, anche loro, che militano da tanto tempo nel baseball per ciechi, quindi per noi è stata una bella partita, molto soddisfatti della partenza. Andiamo a conoscere i tuoi ragazzi allora? Sì, andiamo. Prima di fondare questa squadra io giocavo nel Bologna e lui arbitrava, ci siamo conosciuti, lui di Perugia, io di Narni, ha iniziato a fare una presentazione del nostro gioco a Perugia, l'abbiamo fatta e sono presentati tanti ragazzi, tutti entusiasti di questo sport, e tutti volevano iniziare a giocare e quindi è nata l'Umbria Reskins nel 2017. All'arbitro Massimo Ricci è volato anche qualche insulto in campo oppure no da parte tua? Beh, ogni tanto sì perché sembra lui il cieco. Senti, perché hai scelto il baseball? È uno degli sport che ho provato che mi ha colpito di più, praticamente verso il 2016 hanno fatto una dimostrazione e mi ha colpito perché è un gioco molto dinamico e a me piace fare questi sport così più dinamici. Quindi hai scoperto il baseball praticamente intorno ai 30 anni? Sì, più o meno sì. Nel campo non ci sono ostacoli, quindi puoi correre liberamente, bisogna soltanto ascoltare gli stimoli sonori che vengono dalla prima base che ha un suono, fa un rumore e poi nelle altre basi ci sono dei compagni vedenti che ci battono le palette, quindi fanno rumore e noi riusciamo a toccare la base. Hai convinto anche qualcun altro dei tuoi amici a giocare a baseball? Sì, sì, ci sono dei ragazzi tipo Serena o Florin che ho convinto a giocare e abbiamo creato insieme la squadra. Dove volete arrivare nel campionato italiano? Si spera sempre di vincere, di vincere in campionato. Partiti bene, no? Sì, sì, la prima partita quest'anno l'abbiamo vinta, speriamo che proseguiamo con questo passo. Ce lo racconti un episodio, un aneddoto curioso, magari anche divertente, che ti è capitato da quando giochi a baseball? Il nostro assistente vedente Cristiana, che una volta è andata a recuperare una pallina pensando di avercela sul guanto, ritorna alla base, invece la pallina era rimasta per terra. Ci sono sicuramente altri più forti di me, tipo il mio compagno di squadra Danny, penso sia il più bravo. Quanto ti ha costata questa dichiarazione da parte di Jimmy che ha detto che Danny è il più forte? Me la paga, me la pagherà, me la pagherà molto caro. È vero uno che sei il più forte? No, dai. Sei selezionato anche a livello internazionale? Io sono quasi 11 anni che gioco a baseball, ho fatto una pausa quando è nato mio figlio, di due anni, e poi ho ricominciato, ho cambiato tre squadre, prima ho iniziato con la Fiorentina, poi ho giocato con una squadra del Milano, poi ho fatto la pausa di due anni e poi ho iniziato con gli Umbria Redskins. Serena, è vero che è Jimmy che ti ha convinto a giocare a baseball? Sì, perché all'inizio neanche volevo venire a vedere la prova, diciamo. Di dove sei tu? Terni. Beh, anche insomma viaggi lunghi per le trasferte, ma anche per allenarsi, no? Sì, 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 è un bel impegno. Qual è la cosa che ti piace più del baseball? Ma è che a me sono sempre piaciuti i giochi di squadra e il gioco di squadra, il fatto che giochiamo maschi e femmine insieme, tutto l'insieme, diciamo. Massimo Marta, che allenatori sono? Molto pignoli ma molto bravi, cioè in gamba. La prima è andata subito con una vittoria, no? La prima partita, poi la seconda invece sarà una trasferta proibitiva. In caso di successo anche a Milano è vero che c'è un premio per voi? Guarda, me lo dici tu adesso, però io lo scopro da te e spero che riusciamo a ottenere questo premio allora. Cari a baseball, perché Derni? Perché è uno sport molto libero, molto inclusivo ed aiuta anche molto a livello personale, proprio a crescere, a muoverti, in tutto. Personalmente in che cosa ti ha aiutato? Negli spostamenti, crescere anche a livello fisico, mentale, in tutto per tutto. A divertirmi, alla competizione, ti dà sempre quella voglia in più di fare, capito? Sei allenato, più sei pronto comunque alla fatica e al movimento, più comunque hai risultati. Fai attento anche a quello che mangi, insomma, nella vita quotidiana? Io sì, sì, ultimamente è un anno che faccio dieta, palestra, mi sto impegnando molto per avere dei buoni risultati. E allora via di corsa, senza la vista laser di Superman, ma comunque più veloce di Flash. E allora via di corsa, senza la vista laser di Superman, ma comunque più veloce di Superman, ma comunque più veloce di Superman, ma comunque più veloce di Superman. Grazie a tutti.